Questo titolo perché, insomma, andiamo sempre intorno alla questione, ma alla fine chi siamo? Siamo una sublimazione della terra in qualche modo, comunque siamo un prodotto della terra, ovviamente anche del cielo, però abitando proprio in campagna ti rendi conto che noi mangiamo quelle cose che sono della terra, poi noi diventiamo quello che diventiamo, quindi tante pippe mentali non dobbiamo farcela, siamo proprio un corpo che è nato dalla terra, e grazie alla terra, ecco perché, te lo dico in parole proprio semplici, ecco perché ho detto dritto alla questione, dentro di te c'è la terra. Mi affascina molto, sono contento di aver trovato questo estratto da internet, non sono neanche riuscito a capire chi l'ha fatto, se è vero o finto, fa niente, comunque mi ha molto ispirato e io penso che comunque nella nostra cultura anche più arcaica c'è questa, lo vedo anche in riti della terra, questo contatto che si cerca con il corpo della terra, in tanti modi, e lì nel contesto africano ho visto proprio una forza, una purezza di quell'atto, e quindi tipo il contatto diventa quasi sessualità, un contatto sessuale con la terra, col pianeta, questa è una cosa che mi affascina molto, anche se ovviamente va un po' a ridimensione, mette come metafora, però mi ricordo anche un film di Bertolucci, il novecento, che inizia con la scena del ragazzo Olmo, che fa questo rito con il ragazzino adolescente nell'Emilia Romagna, quindi quella di inseminare la terra, capito, quindi è una cosa molto, che ritorna, ecco, molto particolare. In realtà noi pensiamo di, diciamo, di addomesticare la natura, ma è impossibile, e come tu hai visto poi alla fine, siamo sempre ospiti della natura, anche se abbiamo la situazione di addomasticarla, perché a un certo punto o si vendica in qualche modo, oppure ci assorbe e si rifà di nuovo, non siamo indispensabili, insomma, e vive da sé, anche se poi magari ci annienterà, non so, in qualche modo. Mi sono reso conto di questa cosa nel viaggiare spesso, nel viaggiare e abitare le grandi città, e quindi uscire dall'interno di città e andare nelle foreste e vedere che c'è comunque la traccia dell'uomo che ti indica la strada, ti fa ritornare comunque al punto di partenza per non farti perdere, però dove ti porta? Ti porta sempre nel solito luogo sicuro e comunque diventa poi una gabbia. Insomma, secondo me non è questa, diciamo, ce la siamo inventata noi per stare tutti comodi e godere i nostri capricci, perché poi pensiamo anche che Dio è tutto nostro, che Dio ci ha creato, che Dio siamo noi, invece no, cioè siamo proprio in gabbia, e quindi uscire da questo cavolo di labirinto, per me lì, diciamo, quella cosa della terra, del giardino, ho capito che c'è una possibilità, però ormai siamo, comunque bisogna trovare il modo per entrare in contatto in questa, cioè uscire, trovare l'uscita e poi ristabilire un contatto che comunque abbiamo perso, con l'esterno del labirinto. L'Africa, vabbè, comunque nell'idea, nell'immaginario è quella cosa là, dell'arcaico, del selvaggio, ed è una cosa che a me attira molto, però in effetti l'Africa è destinata a diventare, diciamo, una terra che lo è, lo è, stuporata dai grandi, diciamo, dai grandi multinazionali, e quindi il destino, diciamo, che è segnato, secondo me, e spero comunque che i giovani africani capiscono, infatti la cosa bella è che dare contatto con loro significa anche fargli capire che cosa abbiamo combinato noi, cosa non devono fare, no? Quindi preservare quella cosa primitiva, per me era, cioè quando vede i documentari io ero estasiato, adesso invece loro si vergognano di questo, quando è un punto di forza, però noi non siamo troppo, noi abbiamo fatto una vita troppo comoda per capire questo e per, diciamo, non capire la loro volontà, voglia di uscire dal loro contesto, cioè perché ormai li abbiamo comunque corrotti, no? E questa cosa è anche la stessa cosa che diceva anche Pasolini, no? Sul che cos'è l'ignoranza, l'umiltà, partita dalla campagna, perché anche nella nostra, nelle nostre terre più, diciamo, luoghi più lontani dalle città c'è ancora quella cosa arcaica, un pochettino, insomma, secondo me, insomma, sì, è il tentativo disperato di ritornare a un contatto del genere, comunque è un tentativo disperato, anche se è bello, sembra serena, no? Come processo, il film sembra una cosa molto, è un tentativo, impossibile. Dai, diamo una, dai, è possibile, se no impossibile è brutto dire che è possibile, è possibile. È uno di quei libri che non sono mai riuscito a leggere alla fine, ho detto, speriamo che con lui riesco ad arrivare alla fine, perché poi ci sono altri libri più interessanti, secondo me, di Amanez, però è quella cosa che riguarda l'adolescenza, lui era, comunque è arrivato che sta uscendo, sei un ragazzo che sta vivendo quasi la sua adolescenza in Italia, no? E sì, diciamo che è una cosa che se vogliamo, è quel libro che ho fatto leggere a un'altra persona, perché mi ha affascinato, sei quelle cose che non riesci a finire, però ti affascino e vorresti finirle, e poi raccontano di una dimensione pura, ingenua, che è quella dell'adolescenza, e quindi era un modo per, anche lui, di capire, insomma, come nel nostro mondo si vivono certe dinamiche descritte poi da Amanez in Damien. Loro pensano di avere delle idee strette, in realtà diciamo che avevano o hanno tutta la possibilità per non essere ipocrati su certe questioni, perché in realtà c'è molta libertà, quella cosa che dico rispetto alle otto mogli, no? Cioè, mi sembra una cosa estrema, però lo fanno perché è assurda, e quindi anche lì ho messo in contraposizione, beh allora perché non ci sposiamo così, siamo una famiglia di tre uomini, no? Però, no, per farti capire in realtà rispetto a certe cose hanno delle vedute anche più ampie, però diciamo che su altre, rispetto a quella cultura magari indotta da una religione o da certe tradizioni, loro pensano di non essere emancipati come, cioè diciamo, è anche brutto dire che si è emancipati, no? Messo ne ho conto parlando e conoscendo lui, sì, cioè nel senso c'è un altro tipo di emancipazione su altre cose e noi su altre, magari è bello anche dialogare su questo. Ho quasi rubato, delle volte senza preavviso registravo, no? Perché ormai siamo, diciamo, penso che siamo in un'epoca in cui ci permettiamo di registrare le cose e così, no? E io con questa modalità ho anche fatto questo film e quindi effettivamente è emersa questa questione, chi sono io per rubare lui in quel momento, però in effetti ciò che si è nascata in chi poi entra nel mio lavoro è una sorta di scambio, scambio che poi lì avviene veramente, no? Intanto siamo cresciuti insieme rispetto a certe questioni. Quello che tu hai visto alla fine è una cosa che ha fatto crescere molti, diciamo, tutte le persone che hanno frequentato la costruzione del giardino sono cresciuti su quella cosa là e quindi a parte tutto comunque c'è proprio, come vedi, lui stava raccogliendo anche delle cose del cibo, no? Perché gli alberi, il fico, quindi non era, non è una messa in scena, cioè non è che stanno recitando, effettivamente c'era uno scambio, c'era un tornato a casa con qualcosa, no? Con qualcosa che li ha arricchiti ma anche li ha nutriti. Perché dunque è proprio una ripresa che intanto è immediata, il mezzo, come sappiamo, il cellulare è quasi invisibile, sì, io vedo dappertutto che ci sono persone che si fermano a filmare, magari ci passo anche io e siamo tutti filmati, non c'è questa, cioè l'intimità ormai si è spostata più indietro, cioè nel senso che utilizzando questo, diciamo, il telefono ho tolto un po' questa, il mezzo in qualche modo l'ho, diciamo, l'ho un po' reso invisibile, in qualche modo, è sempre presente perché comunque ce l'abbiamo in tasca, sarebbe stato impossibile riprendere quelle cose che tu hai visto. E poi è proprio per questa idea di immediatezza e l'idea di un film realizzato in presa diretta, all'aperto, come se avessi, non so, un cavalletto e faccio quello che arriva, quindi un plein air, no, in questo senso, e quindi diverso da un cinema, diciamo, impostato di studio e di sceneggiatura, ed è il mezzo ideale, secondo me, per questo tipo di lavoro, di opera che ho realizzato, poi peraltro ci sono altri mezzi sicuramente, e poi proprio l'estetica è quella che ci riporta a dove siamo noi virtualmente, nei social, capito, in dialogo con quello.